Rimani aggiornato sulle notizie di gossip, cronaca, reality show, sport ed altro. Iscriviti al canale Notizie Flash. Dei siciliani si parla spesso in maniera dispregiativa chiamandoli terroni o incapaci. Noi oggi vogliamo segnalare due campioni del programma televisivo condotto da Giancarlo Magalli su Rai 2. Una parola di troppo, un programma semplice e pulito, adatto alle famiglie, che ha messo in evidenza la bravura di due campioni siciliani, Manuel e Angelo, bravi nel riuscire ad indovinare i quesiti proposti dal programma, condotto con maestria da un presentatore di grande spessore. Oggi hanno vinto, lunedì ci terranno ancora compagnia, non sappiamo se vinceranno, nel frattempo godiamoci un po' di sano spettacolo. Questa è la tv che vogliamo.